in questo numero di agri food magazine il 50 per cento della mano d'opera è di origine straniera in 20 anni triplicate le esportazioni di vino italiano nel 2023 54 mila controlli antifrode l'agricoltura cellulare è il futuro? circa il 50 per cento della mano d'opera impiegata nel settore agroalimentare è di origine straniera anche se i dati ufficiali parlano di immigrati occupati che arrivano a quasi 362 mila alla fine del 2022 e coprono il 31,7 per cento delle giornate di lavoro registrate è quanto emerge dal rapporto sui lavoratori immigrati nell'agroalimentare italiano commissionato dalla FAICISL e presentato al CNEL le principali provenienze nazionali registrate nei dati istituzionali sono tuttora nell'ordine Romania, Marocco, India, Albania e Senegal le nazionalità dei rifugiati non compaiono nelle prime posizioni e in generale l'Africa subsahariana è sottorappresentata mentre i lavoratori rumeni negli anni diminuiscono marocchini, indiani e albanesi crescono di qualche migliaia e i senegalesi addirittura raddoppiano l'agricoltura però è anche il settore più a rischio sfruttamento della manodopera immigrata quasi la metà dei provvedimenti giudiziari e delle inchieste condotte tra il 2017 e il 2021 hanno riguardato il lavoro nei campi le regioni del mezzogiorno sono le più colpite ma lo sfruttamento è cresciuto anche al centro nord nel giro di un ventennio le esportazioni di vino made in Italy sono quasi triplicate più 188% arrivando a raggiungere 140 paesi con le bottiglie tricolori che rappresentano la prima voce delle vendite di prodotti agroalimentari nazionali all'estero è quanto emerge dall'analisi col diretti su dati istat relativi al commercio estero negli ultimi 20 anni diffusa in occasione del Vin Italy a Verona tra i principali mercati il balzo maggiore rileva col diretti si è registrato in Francia dove la crescita è stata del 321% per un valore che ammonta oggi a 316 milioni di euro negli Stati Uniti, primo sbocco del vino italiano le vendite sono aumentate del 148% per un valore attuale di 1,76 miliardi di euro mentre per la Germania, secondo mercato, sono incrementate del 69% attestandosi nel 2023 a quota 1,19 miliardi di euro boom del 186% in Gran Bretagna per un totale di 843 milioni di euro l'Italia può contare su 674 mila ettari di vigneto di cui 125 mila ettari coltivati in biologico ma anche su 570 varietà autoctone con un record di biodiversità reso possibile dall'impegno di 240 mila aziende vitivinicole con 529 vini a denominazione di origine tra DOCG, DOC e IGT sono stati oltre 54 mila nel 2023 i controlli dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari tra questi circa 15 mila hanno riguardato specialità DOC e IGP sono state erogate 2200 sanzioni per un importo totale di 21,4 milioni di euro il 12% dei prodotti controllati è risultato irregolare gli operatori sottoposti a verifica sono stati invece 28 mila oltre 500 i sequestri effettuati per un valore economico di 42,5 milioni di euro sui prodotti DOC e IGP la percentuale delle irregolarità sale al 15% il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lullo Brigida l'Italia è la nazione più sicura che fa più controlli ed è anche per questo che emergono più contrappazioni rispetto a prodotti di grande qualità che sono quelli che produciamo noi devo dire che il nostro ispettorato del controllo qualità e repressione frodi per esempio è un'eccellenza da questo punto di vista non solo ce lo invidiano ma chiedono di recarsi in altre nazioni molto spesso dal Giappone agli Stati Uniti e non solo per insegnare alle loro forze dell'ordine come poter effettuare i controlli offrire alimenti più sani e sostenibili contrastando l'impatto dei cambiamenti climatici che minacciano suolo, salute, qualità e produttività delle piante e quindi la nostra sicurezza alimentare è l'obiettivo alla base della sperimentazione di agricoltura cellulare che Enea, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energie e lo Sviluppo Economico Sostenibile sta portando avanti per produrre del cibo vegetale nutriente, saporito e sostenibile le cellule vegetali coltivate in ambienti controllati possono costituire una biomassa alimentare innovativa e di alta qualità grazie a questi modelli produttivi, spiega l'Enea si possono superare i problemi legati alla diminuzione della produttività delle colture e limitare lo sfruttamento delle risorse naturali come terra e acqua oltre a ridurre gli scarti di produzione e l'uso di pesticidi in linea con le raccomandazioni del Green Deal europeo per il 2030 Come evidenziato al World Economic Forum, entro il 2050 si assisterà ad un aumento del 50% della domanda globale di cibo Al contempo, i cambiamenti climatici potrebbero influire pesantemente sui raccolti rendendo fondamentale l'identificazione di sistemi produttivi alternativi Grazie a un processo di asportazione vegetale e di sfruttamento delle caratteristiche presenti nelle cellule vegetali si può arrivare alla moltiplicazione delle stesse qualità in una cultura liquida che può avvenire in bioreattori simili a quelli già usati per il lievito con cui si producono pane e birra Questo nuovo cibo, consumato fresco e non necessariamente trasformato potrebbe essere anche utile nello spazio rendendo gli equipaggi liberi dagli approvvigionamenti a terra ed in grado di affrontare condizioni extraterrestri con sistemi di crescita fuori suolo